Attenzione prego, è in arrivo a Central Station l'esperto di animali, il professor Tomaselli. So, l'avrei presentato io, il professor Tomaselli! Sai che per me è sempre un onore averla qua, ci tengo, sono il primo suo fan. Lui è un etologo di fama mondiale. Biologo naturalista, inutile che a tasta di cellule. Grazie professore, è un biologo naturalista che insomma ci parla di animali. Se potevo, questa settimana mi hanno regalato un cagnolino. Oh, che tonerezza, un cagnolino. Un New Yorkshire. Oh, una Yorkshire. Creatura interessantissima sotto il profilo scientifico, lo Yorkshire. Non sai mai dove finisce il cane e dove inizia la presa per il culo. No, è un animale, cioè, a parte che è meraviglioso, li voglio bene come una persona. Sì, ma non è una persona, diciamo che è un surrogato d'affetto per conduttori tristi e soli. Assomiglia molto di più ad un ratto domestico incapace di procacciarsi il cibo. Vabbè, è povero, è piccolino, poi gli voglio un bene dell'anima, insomma. Sì, sì. Io proprio lo tratto con un amore. Lei ce l'ha un animale preferito? Sì, sì, che ce l'ha un animale preferito. Tantissimi animali preferiti. Comunque il tuo Yorkshire, hai mai provato a togliergli i croccantini al salmone, ok, e a mollarlo per un paio d'ore all'idroscalo? Sai che succede? No? È oggetto di atti di nonnismo da parte degli scogliattoli, hai capito? No, no, gli scogliattoli fanno nonnismo. Sì, li tosano il sedere a colpi di ciaretta brasiliana e riprendono tutto con i telefonini. Ma gli scogliattoli sono delle bestie così. Sì, sì, bestie cattivissime. 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 Senta, ma c'è il suo animale preferito? Non ho un animale preferito, ce ne sono tanti, ad esempio quel pesciolino carino con il faccino a punta che ti cerca sempre. Ah, il cavalluccio marino? No, lo squalo bianco. Lo squalo bianco? Predatore marino di prodigiosa sagaccia, lo squalo bianco. Hai mai provato a togliere le crocchettine al salmone e lo squalo bianco? Lo sai che cosa fa? Cosa fa? Se ne batte il cazzo! Hai capito? No, 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 no. Me lo vedo quel pigno, tra l'altro. Quando ha fame, e ce l'ha sempre fame, è in grado di percepire le più piccole variazioni nell'attività marina. Oh, guarda là. Ma è una tartaruga marina. La tartaruga... Che tenerezza, la tartaruga marina. Altra rettile ed incomparabile idiozia, la tartaruga marina, capisci? Ogni anno ti fai migliaia di chilometri e dov'è che torni per depositare le uvette? Nella stessa spiaggia dove ci sono gli squali. E allora muori, preda. Ma prima vai pure a fare il cuore! No, 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 no. Il professor calma, e se lui ama il suo lavoro si fa un po' a prendere... Tuttavia, 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 la dura corazza della tartaruga potrebbe risultare indigesta, sicché lo squalo la guarda indeciso, meditabondo, poi si rompe le balle e se la ciuccia come una ragossa, capito? Tuttavia, tuttavia le squali sono anche capaci di sentimenti squisitamente umani. Sì, che talvolta, dopo essersi nutriti della tartaruga, con il musetto spingono il guscio a riva della famiglia. Ho capito, in modo che i cuccioli possano riconoscere la mamma. Esatto! No, no! Il ferrero Rosé, hai capito? Ma che ferrero Rosé! Ma che ferrero Rosé, aprite gli occhi, questa è la scienza! Ma è che la scienza, lei ha un mania, questa ne va, scusate! Salutami, signor Cerdìmerda, tantini, ciao!